Cos'è arrivato oggi nella posta? È arrivato qualcosa di molto speciale. Il bambino di cioccolato di Roberto Grande. Sono molto molto felice di aver pubblicato questo libro per Roberto, sotto l'etichetta, una piccola casa editrice, un ghianeo. Roberto è un amico, è un collega, medico-psichiatra, psicoterapeuta, diplomato presso l'Istituto Jung di Zurigo. Ecco, di cosa parla questo libro? Parla dei bambini di cioccolato, che adesso hanno 15 anni. Questa è una seconda edizione, festeggia la nascita di questi bambini. Però da allora il loro percorso non è stato privo di ostacoli, anzi è stato proprio difficile perché hanno affrontato l'isolamento durante il Covid, sono stati testimoni dell'inizio della guerra in Ucraina. Si sono confrontati con la crisi climatica e le prime risposte allo sfruttamento del pianeta. E così sono nati i Fridays for Future, Extinction Rebellion. Le giovani protagoniste di questo libro hanno visto nascere il movimento Me Too del 17 e con determinazione affrontano la lotta al patriarcato. Infine, tutti questi testimoni, i piccoli protagonisti di questo libro, hanno visto gli orrori delle rotte migratorie africane verso l'Occidente, del conflitto in Medio Oriente, con la tragica carneficina che segna Gerusalemme e la Palestina come luoghi di scontro tra bene e male. Sarà poi così? Ecco, questo è il primo libro di una nuova serie che si chiama Studi Neo-Junghiani o Neo-Junghian Studies. Ci saranno altri molti libri. Ed è la gemella della prima serie Recover Classic in Analytical Psychology. Il primo libro è stato quello di Verena Kast, il secondo di Paul Young Eisendrath, il terzo Mary Watkins. Quest'estate arriverà un libro di P.S. Koggemann, Waxing Femininity. E poi questo è l'annuario, Young Eneum Yearbook. Il prossimo numero uscirà quest'estate. Questo libro lo potete acquistare su Amazon per meno di 10 euro e lo potete acquistare come Kindle per meno di 5 euro. Compratelo, ne vale la pena. Grazie.